E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale 55esima missione di GTA V Siamo ai piani dell'architetto E oggi sarà una missione bivio Un po' tipo ispezionando la gioielleria Perché ci sarà l'irruzione al bureau Ma si potrà fare in due modi diversi Quindi oggi andremo verso un approccio E poi nella prossima missione vedremo l'altro approccio Inutile che vi chieda like, l'iscrizione e tutta quanta roba Andiamo a Los Santos e godiamoci questa missione Dai Ok, ho modificato la gamma di colori E devo dire che è figa in culo così Gli ho scuriti un po' direttamente dall'acquisizione Quindi non è che ho fatto qualcosa In fase di editing del video Anzi, ho fatto tutto in, chiamiamolo diretta così Comunque la missione è per Michael forse Perché io ho detto i piani dell'architetto Ma le cose vanno prese con molta calma Ok, intanto noi cambiamo per Michael E vediamo Se abbiamo qualche suggerimento Sempre in posti strani Allora, dove va Michael? Va qui Ho parlato su quella cosa Aspetta, aspetta Vuol dire che c'è la missione per Franklin Nine, negativo Boh, io ogni volta che gioco Questo gioco avvio una missione ragazzi C'è sempre un alone di mistero Dietro le missioni che devo fare Perché io sì, tutto bello Tutto fantastico Programmo di qui, programmo di là Poi E mancabilmente vengo smentito Quindi boh Comunque casa di Michael Dammi un indizio su che missione è per favore Riunione di famiglia Vedi te, io Tu do tempo a dire i piani dell'architetto I piani dell'architetto invece è riunione di famiglia Il figlio But Oh Hey I'm sorry I spiked you, okay I just, I get so mad And I can't control things And then, you know, shit just falls on top of me My life sucks right now And I don't know what to do Except I wanna say I love you and hug it out But all that wimpy shit is just Well, I'd say gay But I have some friends who are gay So that's not cool anymore And the ones that I don't really like It's not because they're gay So, lame, alright You are just a lame and angry psycho sometimes You do bad shit and things And I don't know if I love you And I'm pretty sure I hate you a little bit But I'm just so fucking upset That we can't even see each other And you're just a drunk, lame dad You know what? That might just be the nicest thing Anybody's ever said to me Hey, Vagirato So will you buy me a car? What? I mean, not in the So will you buy me a car kind of way In a completely off-topic Can you buy me a car? I mean, firstly I'm a fat shit that you ruin And secondly I will get a job And I will stop smoking pot In that sort of way, okay? I love you too, son Now Go Get a job Cause I don't have the money to buy you a car Besides which way I'm probably gonna be dead in a couple weeks anyway Per il colpo d'aglio in depositori, si Lo richiama Oh no No, no Non sta scherzando She's scared that you're gonna die And She wants you to go over there And prove that you give a fuck All right All right, all right I can take a fucking hit Let's go We'll get Tracy on the way Tracy on the other hand She's a star Sort of Sort of Mom said she was at Bean Machine Va bene Andiamo All'avventura Sette del mattino Andiamo, ciccione So What's been happening You know Watch it I don't know No I don't What's been happening with you Thanks It's been It's Ok, prima tappa There they are Outside Come on, let's say hi Let's walk up and be civil Come on Your curling has been sluggish for weeks L'insegnante di yoga Fabian Mi sono sberciato un dito A caso Hi Amanda Fabian Michael Hi Mom Hi Jimmy These two A picture of holistic well-being I don't think Maybe they shit once a year Between them Hey That's my son Amanda, come I have a new unit I don't hold You must pay for it Hey Buddy I'm gonna ask politely That you show my wife A little respect Red meat has been blocking your cheese As well as your digestive tract I ain't even gonna go there I'm gonna ask you one time Nicely Michael, just hit him, please Shush woman Anything for you, sweetheart No, vabbè GTA a volte regala delle perle che sono veramente uniche Yeah, he's fine Listen, Amanda I wanted I'm mean to say to you I just What he's trying to say, Mom Is that he's a pathetic old drunken mess And he needs you And you could do a lot better Than a primadonna yoga instructor With an anal fixation Someone Shut up I guess we could try All I'm asking for is a shot Tutto così semplice Ma magari fosse così semplice Dr. Friedlander's office It's perfect All of us I'll pick up Tracy and bring her there Meet you? Fine Vediamo come andiamo a prendere Tracy adesso Come on Get up, you idiot Yoga No No yoga All right You know where your sister is, right? Yeah Let's go Wait, wait, wait But what about that sugar, caffeine, and emulsified pig fat flavored beverage I want? Another time Come on I want one too Later I think Tracy's over at the tattoo Dear Lord Are you all right? I fucking caught up That's astonishing Putta stronza la vecchia di merda Vaffanculo Ma che modi sono questi? Ti stavo solo picchiando perché mi hai investito Avevo ragione Modestamente ragione avevo That asshole What do you want? It's Tracy that wants something She wants to get back on fame or shame after you and Uncle T cut her cameos Sure Well maybe we ought to help her out with that We ought to Hey Hey, ask Back there with your mom That went okay, didn't it? Anything that ends with Fabian's first eardrum is more than okay with me I mean with me and your mom I think it's an important first step in like... Okay Eccoci, è arrivato lo studio di tatuaggi Nooo Ho sbattuto contro il palo e ho vestito tutti Ok, praticamente non farò la medaglia del... Del tempo, non farò 100% perché sono scivolato con la macchina Fantastico, va bene dai, segniamo subito eh Minchia raga, ho fatto una carneficina Seriamente Dai, siate buoni con me Ho fatto, si ho fatto, ho fatto, ho fatto Non rompere i coglioni, ho fatto Ecco quanto tempo ho perso Che potresti anche andare più veloce No, non lo doveva dire Laszlo Tira un pugno Ah ok La parte più bella Sopracciglio Anzi Sopracciglio Il naso Vabbè ma gli mette direttamente il piercing, bellissimo Gli doveva fare la lingua Ok, adesso arriva la parte più bella Se siete bambini, se avete vostri figli vicino, chiudete il video Il petto, il petto Ok, qua cerco di essere il più veloce possibile Mi disegna un cazzo Spoiler L'ha fatto anche bene Oh no, a camera phone or a mirror Oh yeah, I'll get you a mirror Smash you over the head with it Oh no, that's my signature, my ponytail Now I gotta get extensions No, what you gotta get is my daughter, whatever she wants Yeah, without sucking on your piddlestick Look, ok guys, that was a joke I'm a clown, I'm a sad, lonely little clown Hey, you're gonna put her on your show And you're gonna make sure she looks good Look, ok, I got a lot of juice in this town But I mean, I'm not a mirror Just do it Yeah All right, Trace, let's go We gotta get to the therapist What? So, I'll like call you or something, ok? Bye They're for a family Sì, te provaci a chiamarlo Provaci Il povero tatuatore How do I look? Di merda Who knew you could use a tattoo gun? It's one of those skills you pick up in prison You know, ink in your name on your celly's ass Eww Are you serious? Come on Oh Adesso andiamo Dall'ultimo Di cui dobbiamo liberarci Dottor Freelander Che vi spoilerò già Perché tanto Io sono una persona che spoilerà moltissimo Sono una persona cattiva E meriterò di andare all'inferno Qua ci sarà La Scelta Se ammazzarlo oppure no Però Io credo che per fare Il 100% Cosa che non otterrò Però almeno Per guadagnare qualche medaglia in più Vada ucciso Così mi sembra Che fosse così Ma magari mi sbaglio Ma Credo che all'incirca sia così I know, right? So up his own ass You're a fucking contortionist Whoopee I contort my junk all day long And I don't act no superior about it Just a little ashamed and empty It's over, Cher Hey, the guy was talking smack to your mother Well, I applaud you, Pop Hear, hear You're like finally like Using your powers of selfishness and rage for like good Not an objective universal good But like a subjective What's in our best interest kind of good Fuck yeah Awesome What's wrong somebody? Do it, Yaz Yeah, Yaz At questo punto io farei questo Enough Okay Perfetto Signori Yeah Shit Michael Tra l'altro qua Abbiamo fatto la prima missione Quella con Franklin e Lamar Vero Che tra l'altro si chiamava Anche Franklin e Lamar Proprio la missione Amanda Hello Good to see you again Michael I'm so glad Isn't this great? Fantastic Michael, I'm positive I am being positive This is me being positive Give it up, Michael The sarcasm It's one of the reasons I moved out It's beneath you No, it's not Amanda Trust me Nothing's beneath me No, normally there's a whore beneath you You know, for someone who spends every waking moment working on themselves inside and out I gotta tell you, the progress has been really fucking slow How would you know what progress is like, you stupid murdering shit? Uh, gee, because all you do is whine at me Oh, all I do is whine Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it That is not worth I don't see you complaining on the way to the fucking bank Spenta I mean, let's face it, Amanda We're trailer trash, you and me We were taught to do this Get a center, Michael You have no center How about you suck my cock? Tranquillo We'll both get a center for that ever happen Poi diventa incandescente come Trevor e poi si ricalma Comunque io credo che psicologicamente Trevor l'abbia un po' destabilizzato Michael, eh Magari poi mi sbaglio Utilissimo il dottore Non ha spicciato mezza parola I think we made some real progress there Oh, uh, Michael I hope this goes without saying But family work is a little more expensive What, double? Squared Of course Take care now Hey So you gotta come home with me or what? Guess we'll give it a try All right Kids 4.000 dollari Per una seduta di un'ora Sto qua prende 1.000 euro a seduta Ma che cazzo del psicologo è? Comunque Ho sparato una cazzata delle mie solite Dicendo che forse andava ammazzato il dottore Cosa che in realtà non è così Time for what? Time to move beyond screaming at each other That was cathartic Catharsis all over my face Ooh, I got a warm fuzzy feeling Probably just the men's you raided Okay Cathartic All right I just don't want it to be more of the same Now you're the one making the demands? No, no, no Not demands I'm saying you're right Something was broke And we got a work fixin' it We do All of us Yes, mom For real Almeno ridatemi la mia macchina, no? Che è quella a cui punto Bella come la ruberei Oh, hey, hey Or Jimmy's third grade teacher Or the trash guy Or the dad's proctologist Or the guy that thinks he's Jesus on this beautiful beach Or the hippie bomb who thinks the world is ending We're stuck with each other I mean, how do you explain Faking our deaths Changing our name Ste parole proprio dolcinate Mmm Comunque sì, lei dice che Michael dovrebbe liberarsi di Trevor Ormai sono convinto che Trevor che dovrebbe e vorrebbe liberarsi di Michael Quanto ho fatto? Ma lo sapevo Lo sapevo troppo Lo sapevo E ovviamente Trevor sperso in una landa desolata Ubriaco Giustamente, come sempre Buongiorno e dopo la night before Beh, il nostro veicolo personale è palesemente in culo a Gesù Almeno c'è una barca Non dico neanche vado a salvare perché sono proprio sperso nel mezzo del nord Nulla Quindi l'unico appiglio qua E rimane Franklin Vabbè, io intanto vi saluto Poi faccio tutte le cose da me Like al video, signori Iscrizione al canale Noi ci vediamo alla prossima Io sto aspettando questi piani dell'architetto Che non arrivano mai Da Adria è tutto Baciozzo Ci vediamo alla prossima Grazie ragazzi Grazie a tutti Grazie.